Ben trovati per la nuova top 10 di questa settimana. Un'altra sconfitta, due punti in otto giornate, il salto in Serie A Elite è davvero difficile, mai mollare però. Un altro K.O. in trasferta con la netta sconfitta a Bolzano, stasera in casa, l'occasione di riscattarsi. Tornano alla vittoria contro una delle big del girone, brave e combattive, ma ora serve continuità. Vittoria importantissima, 90-73 in chiave salvezza contro Virtus Padova, i Leoni tornano a ruggire. Terza vittoria di fila per i neroverdi che superano anche Vigasio, 27-21, ora sosta per Natale, si torna il 20 gennaio. Non riescono nell'impresa di arrivare in A1, ma i ragazzi di Zen ci proveranno di nuovo l'anno prossimo, parola di presidente. Vittoriosi anche in trasferta a Cittadella mantengono la testa con Milano, è un vero duello a distanza. Grandissima partenza nel campionato DB per la wheelchair basketball Vicenza che supera Cus Padova, 76-40, bravi ragazzi. Dopo Groseto battono anche Forte dei Marmi in un match spettacolare e domani torna la Champions. Vincono e come vincono contro Metanopoli Milano, gioco, gol e tifosi entusiasti per Del Bosco & Company. Grazie a tutti.